Ministero dell'Ambiente, Regione Puglia, nove comuni del Barese, Conversano, Mola, Valenzano, Bitonto, Acquaviva, Trigiano, Casa Massima e Polignano e le associazioni ambientaliste WWF e Lega Ambiente sono parti civili nel processo per il presunto disastro ambientale causato dalla discarica di Conversano. Il GUP del Tribunale di Bari ha accolto la richiesta durante l'udienza preliminare nei confronti di 11 persone e due società. Non ammesse come parti civili, la città metropolitana di Bari è un'associazione locale, mentre le parti civili stesse hanno chiesto la citazione come responsabili civili di Lombardi Ecologia e del lato Bari 5. Questo cosa cambia? Ci sono delle nuove figure che come tali sono quelle che sotto questo punto di vista sarebbero tenute e saranno tenute al risarcimento dei danni, oltre a quelli che eventualmente dovessero essere irrogati nei confronti degli imputati qualora riconosciuti colpevoli. E mentre la vicenda giudiziaria va avanti, il Comitato per la chiusura della discarica paventa che l'inquinamento continui. L'emergenza più grande è quella del percolato che continua a prodursi, soprattutto nella vasca B che è semipiena. Un'eventualità che la difesa della Lombardi Ecologia esclude categoricamente. Schermaglia procedurale a parte, la perizia è il punto di forza della difesa Lombardi. La perizia ha dimostrato che tutte le accuse di rifiuti, interrati, di tutti i tipi e tutti i generi, pericolosi, eccetera, non hanno nessuna consistenza. Che se c'è qualche difetto è assolutamente rimediabile per poter mettere la discarica in condizioni di funzionare, con beneficio per il servizio pubblico, ma che soprattutto non è provato alcun danno ambientale. Grazie a tutti.